In vista del termine di Milano, il tecnico del Milan, Pioli, dovrebbe tornare al passato, voglio dire abbandonare il 4-2-3-1 per tornare al 4-3-3. Secondo me come opzione può rappresentare anche il futuro del Milan in questa stagione, in quanto con questo schema in primi secondo me avresti più copertura a centrocampo, in più anche in fase offensiva potresti contare su una linea A5, perché gli esterni magari, quantomeno uno dei due, magari va a rientrare. E reputo difficile, anzi quasi inutile, che si schiera ancora il 3-5-2, ma per un semplice motivo, perché già fa fatica a schiare una punta, già ne hai due in rosa, uno è Bremovic, figurate appunto schiarne due, che casino può essere. Seconda cosa, con il centrocampo a tre, in primi si rinuncesse al trequartista, che sia De Keteler che Diaz stanno facendo male, magari potessi schiare appunto De Keteler come mezzala, che secondo me è un ruolo per lui molto indicato. Ciao ragazzi!